BOSSARI CONTRO EVENGER SUL CASO FRANCESCO MONTE, DOVE VUOI ARRIVARE? Daniele BOSSARI CONTRO EVENGER, SCONTRO ALL'ISOLA DEI FAMOSI All'isola dei famosi si è tornato a parlare del Cannagate sollevato da Avenger. Dopo che Cecilia Capriotti e Craig Warwick, ultimi naufraghi, che hanno lasciato l'Honduras, non hanno appoggiato le accuse dell'ungherese contro Francesco Monte, Daniele Bossari ha attaccato pubblicamente l'ex moglie di Riccardo Schicchi. L'opinionista del reality show ha chiesto delucidazioni a Eva sul suo comportamento nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Dove vuoi arrivare? Ha chiesto senza peli sulla lingua BOSSARI, che ha subito riscosso un fragoroso applauso da parte del pubblico. La replica di Eva non è tardata ad arrivare. Alla verità ha chiarito la madre di Mercedes Benger. Avenger risponde a Daniele BOSSARI Voglio portare a galla la verità. Mi dispiace ma io sono una persona vera e sincera in tutti i programmi in cui andrò e mi chiederanno di parlare di questa cosa. Io dirò la verità ha assicurato a Avenger. La replica a BOSSARI non è però piaciuta ai telespettatori in studio, che non hanno risparmiato a Eva dei lunghi fischi. Com'è chiaro da giorni, la maggior parte degli appassionati dell'isola dei famosi ha preso le difese di Francesco Munte che, al contrario dell'Anger, ha scelto di stare lontano dal piccolo schermo per un po'. Intanto, nonostante le indagini di striscia la notizia, la situazione di Eva si complica. I naufraghi non appoggiano a Avenger. Dopo Nadia Rinaldi, anche Cecilia Capriotti e Craig Warwick non si sono schierati dalla parte dell'Anger. Tutti e tre hanno fatto sapere di non aver visto Munte comprare e fumare marijuana, come invece ribadito dall'ex attrice Luci Rosse.